Siamo in estate, parliamo di gialli, classica lettura sotto l'ombrellone, parliamo di gialli napoletani con Massimo Siviero, a lungo giornalista del mattino, ora scrittore, benvenuto nel nostro telegiornale innanzitutto. L'ultimo dei suoi gialli, dei suoi polizieschi ambientati a Napoli è Mater Munnezza, edizioni 100 autori, che vede il ritorno del commissario abruzzese, già conosciuto in precedenti i suoi lavori, che dalla questura di Via Medina indaga su un'intricata vicenda di omicidi. Partiamo dal titolo, perché Mater Munnezza? Titolo provocatorio, ma anche di denuncia, perché quando parlo di Munnezza io vado ben oltre il significato della parola in sé, non solo spazzatura, non solo rifiuti tossici, ma anche di peggio, i morti ammazzati, alla vista dei quali giriamo la faccia dall'altra parte, quelli che io chiamo i colletti sporchi, il malaffare, i negrieri e la nuova tratta delle schiavi. Ho visto il servizio di nere, tra l'altro, litorale Domizio, devo dire che nel mio romanzo c'è molta carne a cuocere, anche alla tratta delle nere. Tutto l'intreccio dei vizi, dei quali purtroppo in qualche modo Napoli diventa paradigmatica di una decadenza etica più generale. Sì, è una cassa di risonanza, anche perché devo dire, l'ho già detto in altre occasioni, che una certa borghesia napoletana si è sempre rivelata un po' restia ad affrontare i problemi di tutti i giorni, spesso ha girato la faccia dall'altra parte, ma in molte altre occasioni è entrata nel malaffare. Una borghesia colpevole, infatti anemica, a un certo punto viene definita quasi refrattaria, persino al sole, asserragliata nei suoi circoli privati, nei suoi privilegi. Nei suoi privilegi, sì, perché viene poi, tra l'altro, in questa cornice viene trovato il cadavere di una giovane donna nello specchio d'acqua del circolo balneare più in di Napoli, dove appunto c'è questa borghesia refrattaria, non solo al sole, ma alle problematiche della città. L'altro cadavere invece è quello di una diseredata, di una giovane albanese, quindi ci sono tante realtà a confronto nel libro. Al di là di questo libro di Mater Munnezza, ricordiamo, edizioni 100 autori di Massimo Siviero, ricordiamo che c'è un filone tutto napoletano, si può dire, del Noir, che oggi vede un fiorire di nomi, ma che affonda le radici, in un passato abbastanza remoto, con Francesco Mastriani addirittura. Beh sì, ritengo di aver rivelato questa particolarità, Francesco Mastriani è stato il primo autore ad aver scritto un giallo napoletano, anche se è ambientato pure in universi di 1852, ma veramente lui ha cominciato a pubblicare appuntate su un periodico che era l'Homanibus, e la prima puntata avvenne nel dicembre del 1851, cioè molto prima del cappello del prete di De Marco, per esempio. Sì, che è considerato uno dei pionieri del giallo italiano. Del giallo italiano, ricordiamo che Mastriani è l'autore della cieca di Sorrento, di romanzi che sono rimasti poi celeri. La cieca di Sorrento, che poi divenne un best seller dell'epoca, ci sono stati una serie di film, uno dietro l'altro, e devo anche dire che Mastriani è stato in qualche modo anche l'inventore del romanzo verità, del romanzo inchiesta, quello che lui chiamava studi. Il romanzo inchiesta che oggi è tanto gettonato. Grazie mille a Massimo Siviero per essere stato qui con noi oggi.